Ciao a tutti, eccoci qua da Tenore Informatico, bentornati come sempre qua nel mio canale per questa nuova recensione del prodotto di oggi, ovviamente anche una guida fai da te all'installazione di questo ventilatore da soffitto che comprende plafoniera led con tre colori diversi. All'interno della confezione, come state già vedendo negli spezioni dell'unboxing, troveremo le istruzioni, il telecomando che ho già qui con me. Le istruzioni comprende il modello che mi hanno mandato il 9513, ci sono due colorazioni che possiamo scegliere dal sito Amazon e nella descrizione trovate tutto quello che vi serve all'acquisto di questo prodotto. Come già detto prima mi piace il design, fatto veramente bene, una ventola piccolina ma il pezzo forte di questo ventilatore e soprattutto il fatto che la ventola, oltre che a girare, l'albero del motore oscilla in più direzioni per dare aria fresca a 360 gradi e non soltanto nella parte dall'alto verso il basso. In pratica va a oscillare, come vedete già inclinata, e l'oscillazione permette di diffondere l'aria in tutte le direzioni. Nella parte dietro troviamo anche questa scatola che comprende tutta la parte di elettronica perché è possibile comandare il ventilatore sia dal telecomando in dotazione con tutte le funzioni e ovviamente anche tramite l'applicazione. Possiamo comandare il nostro ventilatore tramite il nostro device e avere così un prodotto in stile domotica. Questo dispositivo presenta dei led circolari, tre colorazioni, il motore oscillante a sei velocità di rotazione grazie al telecomando o dal telefono. Possiamo aumentare la luminosità da un minima, un massimo di luce con colorazione dal freddo al caldo. Nelle istruzioni qui con me a pagina 41, anche l'italiano è compreso, almeno quello, le istruzioni in italiano. Le specifiche sono un tipo di materiale ABS in ferro PC, viene chiamato così, con alimentazione minima da 110-220 volte, 50-60 Hz. La potenza numerale delle luci LED è di 80 W per i paesi Europa, Inghilterra e 38 W per gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti la tensione è di 110 volte e da noi 230 volte. Potenza del motore 17 W con sei velocità di rotazione, oscillazione angolare per diffondere così tutta l'aria fresca in più direzioni possibili. Veniamo ora al lato pratico dell'installazione, semplice e alla portata di chiunque. Possiamo vedere che dobbiamo soltanto applicare la ventola nella parte anteriore del motore, avvitare il piccolo nasino in senso anti-orario, smontare la staffa dietro e applicarla al soffitto, come state vedendo. Ho fatto dei fori nel soffitto, ho inserito i tasselli, le viti, quindi rispetto a un tradizionale ventilatore da soffitto questo richiede meno tempo di installazione, 5 minuti e avete fatto. Bene, andiamo a completare l'installazione di questo ventilatore da soffitto con plafoniere a led e poi lo andiamo a testare. Andiamo. Eccomi qua, sono pronto per ultimare l'installazione e il montaggio di questo ventilatore. La cosa veramente comoda è questo cavetto d'acciaio che si aggancia qui nel telaio e permette così di andare a cablare tutti i cavi elettrici nella parte del soffitto. Il ventilatore è agganciato al soffitto in totale sicurezza e possiamo cablare senza tenere il ventilatore. Vi ricordo di staccare la corrente prima di fare questi collegamenti per la propria sicurezza. Finalmente ho completato l'installazione del mio ventilatore da soffitto del marchio Fimei che comprende anche l'illuminazione con plafoniera a led e ora lo andiamo a testare tramite il telecomando e si può anche utilizzare con l'applicazione da telefono. Vediamo ora tutte le sue funzioni che sono già riportate nelle istruzioni e come sempre vi consiglio di leggere anche le istruzioni. Bene, prendiamo il telecomando e iniziamo con lo spegnimento del ventilatore tramite il pulsante lo possiamo spegnere e accendere regolare il tipo di colore luce con il KK Con il più andiamo a cambiare il colore della luce da fredda, più fredda oppure calda. Sempre dal telecomando troviamo 1H o 2H che significa il timer del tempo di accensione e spegnimento del dispositivo. Possiamo scegliere un'ora o due ore di tempo. Possibilità di aumentare o diminuire l'intensità della luce Fa tantissima luce O diminuire la luminosità Sempre dal telecomando troviamo un'altra pratica funzione tramite il tasto per dare la massima luminosità Cambiare il colore Ed infine possiamo abbassare l'intensità della luce E per completare passiamo ora alle funzioni di ventilazione dal telecomando Dal telecomando troviamo 6 velocità numeriche Basta tenere il numero di velocità per mettere in funzione la ventola Attualmente la velocità è di 1 Fino ad arrivare alla sesta velocità E vi assicuro che fa veramente fresco Al centro del telecomando di numerazione troviamo il tasto che va a bloccare la ventilazione premendo stop E si ferma la ventola Questo tipo di ventilatore permette anche l'oscillazione Metto in funzione la ventola con la minima velocità Il tasto di oscillazione Il tasto di oscillazione che permette una ventilazione a 360 gradi E potete vedere che sta oscillando a una velocità bassa Volendo possiamo aumentare anche l'oscillazione Per concludere Un altro interessante pulsante dal telecomando Che riguarda il senso di rotazione della ventola Se lo premette la ventola gira nel senso opposto Si ferma E poi prosegue la rotazione in senso anti-orario Bene, siamo giunti alla fine di questo video Vi ringrazio come sempre per avermi seguito fino a qui Per qualsiasi cosa commentate qui in basso E ovviamente vi ricordo l'iscrizione al canale di Tenore Informatico E lasciate tanti like a questo video Noi ci vediamo alla prossima da Tenore Informatico Ciao a tutti